Singenta presenta nuove varietà di zucchine, quali sono le principali del 2015, quelle fra cui si potrà scegliere? Le varietà nuove vanno ad arricchire la gamma, per quanto ci siano prodotti leader come Siros, Ortano, Rodos, in particolare in quest'area, la ricerca singenta non si ferma. Lo scudo nel segmento chiaro con fiore è una varietà che si presta bene per il pieno campo estivo, in quanto ha delle ottime resistenze a virosi e all'oidio. Ha un frutto lucido, brillante anche d'estate, in quanto ha delle belle striature scure, ha un bel fiore e quindi si presta alla raccolta con fiore, il quale normalmente avviene. Per quanto riguarda invece il Golden Glory è un zucchino giallo cilindrico, è un prodotto di nicchia che però pian piano sta prendendo piede, non solo per il catering ma anche presso la grande distribuzione, in quanto si presta non solo all'uso estetico nella preparazione dei piatti, ma anche preparazioni culinarie le più diversificate, in particolare per la bontà e la sua dolcezza rispetto allo zucchino normale. Si ingenta, osserva anche il mercato e si muove di conseguenza al mercato italiano. Quali sono le caratteristiche del mercato italiano nel 2015? Che cosa avete potuto osservare? Allora, il mercato italiano è intanto il mercato di produzione e di consumo più importante in Europa e anche il mercato più diversificato e questa spiega l'ampiezza della nostra gamma e gli investimenti della nostra ricerca in direttrici, su direttrici diverse di frutto. Il mercato in termini merceologici chiede sempre più un prodotto che sia esteticamente bello, uniforme, lucido, brillante e soprattutto che mantenga la sua freschezza a distanza di qualche giorno dalla raccolta, quindi il famoso post harvest e in questo senso si ingenta sta lavorando molto. In termini agronomici le resistenze a virosi in particolare, che sono i principali a rischio culturale, sono quanto i produttori ci chiedono e si ingenta anche qui sta esplicando il massimo sforzo, anche se poi le resistenze genetiche vanno combinate con pratiche agronomiche e con una moderna tecnica di difesa, anche chimica. Il terzo aspetto molto importante per il mondo produttivo è quello del portamento di pianta, un portamento di pianta poco spinoso, aperto, a interno di corti, che quindi faciliti l'individuazione di frutti, li rende esteticamente più belli perché più uniformi, più sani e faciliti soprattutto anche la raccolta riducendo i costi della manodopera, che sono il principale costo variabile sulla coltivazione dello zucchino. Prima accennava a due prodotti in sviluppo che ancora non hanno un nome ma solo un codice, che cosa dobbiamo aspettarci da queste due nuove varietà? Sì, in effetti purtroppo abbiamo sigle e non nomi in questo caso, sono il CV 5529 e il CV 6134, sono due ibridi nel segmento a frutto verde, molto interessanti intanto per la precocità produttiva e la produttività, hanno una resa davvero molto molto elevata. Accanto alla generatività nel caso del 5529 abbiamo apprezzato molto in questi anni di sperimentazione e di divulgazione la tolleranza agli sbalzi termici della varietà e quindi la sua rusticità e la sua stabilità produttiva. Nel caso del 6134 la qualità di frutto è veramente eccelsa e direi che anche il portamento di pianta risponde ai canoni ideali per la raccolta. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio